Buongiorno dalla Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo, come di consueto anche quest'anno con l'avvio della stagione balneare con l'estate ha avuto inizio l'operazione Mare Sicuro, programmata per il periodo dal 17 giugno al 17 settembre e finalizzata a garantire un sereno e regolare svolgimento delle attività turistico-balneari e diportistiche. Proprio per tale motivo numerosi saranno i controlli che verranno effettuati dal personale della Guardia Costiera mirati proprio a tutelare la sicurezza della navigazione e quella dei diportisti e di tutti coloro che durante quest'estate andranno per mare. Per tale motivo, al fine di ottimizzare questi controlli, la Guardia Costiera anche per quest'estate si servirà di uno strumento ormai consolidato nei vari anni passati ovvero il dispositivo di sicurezza a bollino blu. Il bollino blu nasce proprio con l'intento, con l'obiettivo di andare a razionalizzare quelli che sono i controlli da parte del personale delle varie forze di polizia che operano in mare nei confronti dei diportisti. Questo al fine di ridurre la reiterazione dei controlli, ovvero far sì che lo stesso diportista non venga soggettato più volte ad un medesimo controllo in un breve periodo di tempo. I bollini blu possono essere rilasciati alle unità di porto, comprese quelle destinate alle attività di noleggio e di locazione una volta che abbia avuto esito regolare il controllo da parte degli operatori. Appunto per questo ricordiamo che i controlli vengono effettuati sulla base di una checklist che mira proprio ad andare a verificare il possesso e la regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione nonché delle dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti. Come dicevo, una volta che il controllo abbia avuto esito positivo, si passa alla redazione del verbale di operazioni compiute che verrà rilasciato insieme al bollino blu al diportista. A questo punto sarà onere del diportista mantenere a bordo il verbale di operazioni compiute e apporre una parte ben visibile dell'unità da diporto proprio il bollino blu. Questo farà sì che gli operatori che effettuano i controlli in mare già a distanza riconoscano quell'unità quale unità che appunto ha superato con esito regolare e quindi che ha a bordo tutte le dotazioni e le documentazioni previste. Nell'augurare a tutti i fruitori del mare, a tutti i bagnanti, a tutti i diportisti una sera in estate si ricorda il numero blu di emergenze in mare 1530.